Salve a tutti, io sono Snake e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere la class gem della Fight Trickster. La class gem dice che la nostra abilità, ovvero quella che prima ci permetteva di telerasportarci, lasciando un minion come copia di noi, diciamo, che prendeva il danno, facendo diciamo da tank, da esca o quello che vi pare, adesso non saranno più immobili, ma ci seguiranno e andranno incontro ai nemici esplodendo. Quindi ragazzi, posso soltanto mostrarvi come mi seguono, sempre se non cado, come potete vedere i minion mi seguono le esche, come vi pare, e andiamola a vedere subito in combattimento. Eccoci qua, come potete vedere non staranno più immobili, ma anzi li andranno proprio addosso, facendo sì che facciano danno e che stunino i nemici. Come potete vedere posso comunque spararli mentre li stannano e fanno anche dei danni considerevoli, soprattutto se critta, come potete vedere li vanno proprio addosso, sono arrabbiatissimi e poi esplodono. E ragazzi, questa era la class gem del Fight Rickster, noi ci vediamo in un prossimo video con una nuova class gem. Ciao!